Minecraft! Ma ottengo i blocchi che guardo! Allora, non dovrebbe essere troppo difficile, perché se io tecnicamente guardo la terra... Oddio, quanta terra mi sta dando! Andiamo a guardare la legna! Ah, legna infinita! L'obiettivo di oggi è quello di trovare i diamanti. Facciamo una scommessa, se dovessi trovare i diamanti, dovrai iscriverti e lasciare like. Ok, ho trovato questo bel villaggio e così posso prendere la cobblestone. Facciamo un piccolo in pietra. Andiamo a fare cibo infinito per sempre. Penso che ne abbia fatto un po' troppo. Direi che ho abbastanza pane. Oddio, un fabbro. Vediamo cosa ci dà. Piccolo in ferro, nice! Oddio, i diamanti! Fatti i diamanti! Allora, mi è venuta una grandissima idea. Prendiamo i diamanti, prendiamo i diamanti. Adesso non ci tocca che prenderli. Let's go! Abbiamo vinto la sfida! Adesso mantieni la promessa, iscriviti e lascia like.